Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Bemos per Atlante Politico sul quotidiano La Repubblica. Sulle intenzioni di voto politiche nazionali Fratelli d'Italia è il primo partito con il 30,5% delle preferenze. Poi abbiamo la Lega che risale all'8,5% mentre Forza Italia e il Terzo Polo sono appena sopra il 7%. Tutte le altre formazioni politiche sono sotto intorno al 3%, ad esempio più Europa è al 3,3%, a 2,9 invece più Europa, mentre il PD di Enrico Letta fino a oggi recuperano qualcosa con il 17,5%, superando il Movimento 5 Stelle che è al 17%. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.